Uno dei volti nuovi del mercato di Gennaro e del Pescara, Luca Clemenza, da qualche giorno in terra d'Abruzzo, le prime impressioni ovviamente? Le prime impressioni sono assolutamente positive perché c'è un gruppo fantastico, una città che mi hanno parlato che è fantastica e non possono che essere positive. Ti attende una seconda parte di stagione che potrebbe essere importante anche per un eventuale ritorno alla Juventus, prossimamente giocherai e cercherai di far bene anche per questo? Assolutamente sì, ma in primis sono arrivato qui per far bene per questa squadra perché è una squadra fortissima che ha sempre puntato a livelli alti, a posizioni alte, quindi la prima cosa è fare bene per questa squadra. Si è ricreato grande entusiasmo con l'arrivo sulla panchina bianca azzurra di Nicola Legrottaglie, due vittorie su due, il detto dice non c'è due senza tre, si guarda a chiave a riconfiducia. Assolutamente sì, anche perché come ho detto prima ho avuto modo di conoscere la squadra questi primi giorni ed è una squadra veramente forte, il mister è un grande mister, quindi noi puntiamo sempre a fare bene a ogni partita che viene. 3-5-2, questo è il modulo scelto dalle Grottaglie almeno in queste prime partite, Luca Clemenza dove potrebbe trovare posto in questo modulo? In questo modulo il mister mi sta piegando come mezzo alla sinistra ed è un ruolo che mi piace molto anche perché in mezzo al campo si possono ricevere tanti palloni ma si può determinare anche in zona gol. Parliamo allora di questa gara di domenica a Chiavari, incontrerete una squadra che sulla carta ha giocatori grandi nomi, una Virtus Centella che punta i playoff? Sì, assolutamente sì, ma come ho potuto conoscere la Serie B in generale tutte le squadre da affrontare sono difficili e ogni partita sai, quindi noi andiamo lì per fare il meglio possibile e portare a casa ovviamente i tre punti. Ti conosci qualche giocatore in particolare nell'Entella? Ho sentito che è arrivato ultimamente Dezzi ed è un giocatore abruzzese tra l'altro. Che ho avuto modo di conoscere al Parma in Serie B ed è un giocatore molto forte. Tornando alla tua avventura qui a Pescara, sei arrivato in una piazza calda, una piazza molto esigente, sei visto anche nel match con il Cosenza. Assolutamente sì, ma questo è il bello del calcio perché se non ci fossero i tifosi non sarebbe la stessa cosa. So che è una piazza calda ma noi scendiamo in campo per far bene e porteremo anche i tifosi dalla nostra parte. Luca Clemenza, prenota una maglia per domenica in casa dell'Entella? Va benissimo, speriamo.